Bentornati a Pillole Astronomiche. Sicuramente è capitato a tutti di osservare la Luna nel cielo notturno, ma vi siete mai domandati come è nata, qual è la sua origine? Sono quattro le principali teorie che si propongono di spiegare la provenienza del nostro satellite. La teoria della fissione, che ritiene che la Luna in origine fosse un tutt'uno con la Terra. Il nostro pianeta ruotava su se stesso molto più velocemente di adesso e questa rapida rotazione ha portato al distacco di una sua porzione, che poi è diventata la Luna. La teoria della cattura, che sostiene che la Luna invece si sia formata da qualche parte nel sistema solare e solo successivamente sia stata catturata dalla gravità del nostro pianeta, iniziando ad orbitarvi attorno. La teoria dell'accrescimento, secondo la quale, quando la Terra si è formata, non tutto il materiale disponibile è stato utilizzato. Ciò che ha avanzato, quindi, dalla formazione del nostro pianeta, ha iniziato ad orbitarvi attorno, compattandosi nell'arco di molto tempo, dando origine alla Luna. Infine, la teoria dell'impatto, quella che si ritiene al momento la più attendibile. La Luna, quindi, sarebbe nata dallo scontro fra una terra primordiale e un corpo celeste di grandi dimensioni, probabilmente grande quanto Marte. Questo urto ha provocato molti detriti, oltre che lo sgretolamento del corpo celeste incriminato. Tutto il materiale derivante da questo impatto si è poi lentamente unito, dando origine al nostro satellite.